Sono Paolo Perissinotto, sono Senior Sales Support, cioè svolgo un'attività di supporto alla vendita dei colleghi. Quando c'è da intervenire per approfondire determinate tematiche, entro in soccorso io con la mia attività. Io ho avuto modo di incontrare Paolo grazie a un'iniziativa che da anni ha messo in piedi l'azienda, diciamo su indicazione di Marco Corbellani. Per me è stata un'occasione ottima, che consiglio peraltro di approfondimento delle tecniche, delle modalità, dei principi su cui si basa il processo di vendita e anche di impostazione marketing. Quindi mi sento assolutamente di suggerire il ricorso alla sua competenza perché dà modo di consolidare o di cambiare o di modificare o di rendere sempre più professionale l'attività che andiamo a svolgere in questo mondo che è il mondo della vendita e del marketing. Grazie